Pace bene e bentornati al nostro appuntamento con la Santità. Oggi, 25 giugno, ricordiamo il Cuore Immacolato di Maria. Ascoltiamo. Il Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria è una festa liturgica istituita da Papa Pio XII nel 1944 a perene ricordo della consacrazione del mondo al Cuore Immacolato di Maria, da lui compiuta il 31 ottobre 1942, mentre il mondo era nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Maria medita nel suo cuore gli eventi in cui è coinvolta insieme a Gesù. Con questo suo modo di agire insegna a nutrirci in profondità del Verbo di Dio, a vivere sfamandoci e abbeverandoci di Lui e soprattutto a trovare Dio nella meditazione, nella preghiera e nel silenzio. Maria, infine, ci insegna a riflettere sugli avvenimenti della nostra vita quotidiana e a scoprire in essi Dio che si rivela, inserendosi nella nostra storia. Il Cuore di Maria è proprio nominato nella Sacra Scrittura. Vediamo che cosa dice Luca. Maria, ecco la frase, da parte sua, serbava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Ecco, la parola che è dietro, il verbo che è dietro all'azione di Maria, è sumbagliusa, che dal greco vuol dire un po' mettere insieme. Maria nel suo cuore inizia a accumulare, a mettere uno a fianco all'altro tutti i prodigi che sta vedendo, tutto il suo stupore, e lo conserva lì. Lo conserva lì dove è al sicuro, ma dove può essere sempre meditato e può sempre tornare a galla, quando può essere digerito. Immaginiamo il Cuore di Maria come un grande stomaco, in realtà, uno stomaco della fede, dove tutta la grazia entra e poi c'è il tempo per la mente umana di maturare la fede e di nutrirsene. E quindi, se Maria ha dovuto avere questo approccio alla fede, quanto più noi che, possiamo dircelo, non abbiamo il suo livello di bellezza interiore e di spiritualità, allora ci affidiamo a Maria, appunto perché anche il nostro cuore possa diventare un bel serbatoio di cose belle che non capiamo al momento, ma che rimangono lì e vengono digerite dall'amore per poi diventare una fede splendida. E per la nostra fede, per il nostro cuore, ci affidiamo a quello santo di Maria. Beata Vergine Maria, prega per noi. Grazie a tutti.